Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo l'operatore booleano OR, detta anche disgiunzione logica. Non è altro che la somma logica. Abbiamo quindi due variabili A e B. Andiamo a realizzare la tabella della verità e poi vediamo come funziona la disgiunzione logica, l'OR. Avremo A e B 0 0, 0 1, 1 0 e 1 1. A OR B è sempre vera quando almeno una delle due variabili è vera. Quindi il risultato sarà A quando A è 0 e B è 0, A OR B diventa 0. Poi abbiamo sempre il risultato 1, perché una delle due variabili è uno stato alto, è 1, e quindi il risultato è 1. Questo è l'operatore logico OR, detto anche disgiunzione logica. Grazie e vi aspettiamo al prossimo video.